Buongiorno, sono Elisabetta Guglielinini. Se volete sapere come finisce questo prelude di François Couverin, dovete venire a trovarmi alla settimana barocca siciliana a Siracusa dal 16 al 20 agosto e scoprirete tutte le meravigliose nuance che questo strumento ci regala. Mi raccomando, vi aspetto dal 16 al 20 agosto a Siracusa.